Sono i capelli ondulati, mossi o ricci? Vuoi dare più volume alla tua conciatura? La spazzola Pro Gloss Perfect Finish è la migliore alleata per uno styling d'autore, garantendo volume ai tuoi capelli e modellando le estremità in maniera facile, veloce e sicura. Come vedete le setole accarezzano delicatamente i capelli per creare uno stile morbido e lucido e attraverso il preciso sistema di rilascio si ritraggono per ottenere un effetto impeccabile. Il cilindro in ceramica assicura che il calore sia distribuito uniformemente e rapidamente su tutta la superficie. Basta selezionare la temperatura più adatta al vostro tipo di capelli tra i 150 e i 210 gradi. Se per esempio avete capelli molto spessi potete scegliere di usare le impostazioni di calore più alte per un risultato migliore. Inoltre il sistema di riscaldamento è ultra rapido e permette l'utilizzo dopo pochi secondi. La spazzola Revampro Gloss Perfect Finish garantisce i capelli visibilmente morbidi e lucenti attraverso l'utilizzo di oli super leviganti a base di keratina, argan, cocco che definiscono il look e proteggono i capelli dai danni del calore. Questa spazzola ha un design leggero ma robusto concepito per durare nel tempo e una garanzia di due anni. Il cavo è lungo 3 metri e girevole a 360 gradi esattamente come quelli da salone e garantisce il massimo del comfort e della mobilità. Inoltre il voltaggio è universale e la spazzola è dotata di modalità di spegnimento automatico dopo 72 minuti. Beh, cos'altro aggiungere? Questa spazzola è tutto quello di cui avete bisogno per avere un look ondulato, mosso o riccio a prova di salone di bellezza. Non aspettare, corri da MediaWorld!